Ciao, mamma. Ciao. La tua unica speranza. Devi dirmi dov'è? Io non lo so. Non mi dai scelta. È appesa a un filo invisibile. E solo uno sconosciuto può trovare. Sei pronto? La prego, mi aiuti. Lei è la mia ultima speranza. Ma chi sono quelle persone? Cosa vogliono da suo fratello? Per il ciclo missione estremo oriente. Sei tu quello che ha preso la telecamera di Windows. Se non li lasci andare, ti faccio andare in onda. Con NEPTED. Martedì alle 21.10 su Rai4.